E' un maschio. E stasera farò di te un uomo ricco nei suori. Sì! Sì! Fermo! Polizia! Non sparate, sono un attore. Che cosa fa qui? Cosa voleva rubare? Niente! Non sono un ladro e non sono nemmeno un assassino. Assassino? E chi ha mai parlato di omicidio? Se la polizia fa delle indagini scoprirà che non eri tu che eri a letto con me. E allora, di chi sono questi piccoli sandoli? Sette criminali e un bassotto. Sette criminali e un bassotto.